Musica Telespettatori marchigiani buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alcune brevi notizie di cronaca. Una lite stradale poteva avere conseguenze ben peggiori. Un offidano 57enne nei pressi di Castel di Lama sorpassa una vettura a bordo della quale viaggiavano nella stessa direzione un 46enne con la moglie. Quando quest'ultimo gli aveva fatto notare la pericolosità della manovra con alcuni colpi di claxon, l'uomo per tutta risposta ha estratto una pistola brandendola con fare minaccioso. Allertati i carabinieri hanno rintracciato l'offidano rinvenendo nel portaoggetti dell'auto una pistola ad aria compressa di libera vendita e simile alle armi in dotazione alle forze dell'ordine. L'uomo ora dovrà rispondere alla magistratura di Ascoli Piceno di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. E nuovo blitz delle forze dell'ordine all'hotel house di Porto Recanati. Nella giornata di ieri gli agenti del nucleo prevenzione crimine hanno setacciato il palazzone multietnico segnalando un pregiudicato iracheno di 33 anni trovato in possesso di alcune dosi di eroina mentre 21 persone sono state identificate per 7 di esse. È scattato il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio in quanto si ritiene che si trovavano sul posto per acquistare droga. Tali controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva. A due anni dal sisma il rendiconto delle attività della regione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa mille cantieri al lavoro e dentro il 15 settembre consegnate tutte le casette. Vediamo il servizio. Circa mille cantieri al lavoro, metà delle macerie raccolte, tutte le casette consegnate entro il 15 settembre. A due anni dalla prima scossa del sisma che ha sconvolto il sud delle Marche il Presidente della regione in una conferenza stampa ha illustrato il rendiconto delle attività in corso sia per la gestione dell'emergenza che della ricostruzione. L'impegno è stato enorme. Sul fronte emergenza finalmente si stiamo alla coda delle attività. Le SAE sono quasi tutte consegnate, quasi tutte le comunità, 27 comuni su 28 si sono ricostituite e questo è un segno molto importante. Ritorno vicino a casa dove si è sempre stato. Quelle che mancano, il grosso finirà entro il mese di settembre ed è per noi una fetta di impegno molto importante che passa in una fase nuova. Anche le piccole attività commerciali, con i piccoli centri che si sono ricostituiti vicino alle SAE sono stati tutte realizzate, 166 attività ricollocate. Le macerie, che era un tema molto caldo, sono convinto a conti fatti che le Marche possono vantare un'ottima gestione di questo percorso. Oltre la metà sono già state raccolte, da dicembre non abbiamo più le macerie pubbliche, quelle in strada, ma solo da demolizione. Di questi il 99% già avviato a recupero e in parte, gran parte, riutilizzato. C'è un modo molto virtuoso di aver risposto. L'Aquila, per fare gli stessi numeri, ci ha impiegato a 5 anni e non so se con lo smaltimento in tempo reale. Ci hanno fatto i complimenti tutti e è molto importante. Avere messo questa fase, chiamiamolo più emergenziale, in un'ottica più ristretta, ci aiuta per concentrarci sempre di più sull'altra fase che è quella della ricostruzione. Qui mille sono i cantieri già operanti, sia di ricostruzione pubblica che di ricostruzione privata. Il grosso elemento lo fa la privata. Nelle Marche, in un confronto con le altre regioni, abbiamo sviluppato un volume di attività importante con un ritmo di stato sempre crescente. Vogliamo, non siamo contenti, vogliamo comunque migliorare da questo punto di vista, concentrarci di più sulla parte della ricostruzione, significa anche aver cambiato passo, trovarci in un'altra fase. Vogliamo accelerare quella privata dando tempi certi, vogliamo lavorare su quella pubblica che ha bisogno ancora di necessarie semplificazioni. Quindi insisteremo col governo, con il nuovo commissario quando arriverà, per mettere anche qui, segnare un passo decisivo. Abbiamo visto che ogni volta che sono arrivati strumenti di semplificazione, il risultato si è visto in termini concreti. Abbiamo bisogno su questo che avvenga, perché la parte di ricostruzione pubblica è ancora troppo appesantita da procedure ordinarie che non colgono la straordinarietà di questo passaggio. Noi abbiamo oltre 900 opere finanziate, di questo un'affetto importante ancora non hanno neanche il RUP nominato. E' evidente che serve lì una svolta, ma sarà la parte in cui ci concentriamo. Non abbiamo rinunciato alla parte più strategica, perché uno può chiedere i 400 milioni di fondi europei che sono stati stanziati, a che punto sono. Oltre 100 milioni di questi fondi sono già bandi, già usciti, a quali stanno partecipando soprattutto le imprese, perché grossi questi fondi è rivolto alle imprese. La parte pubblica si fa attraverso la stipula di convenzioni, quindi aver fatto già oltre 100 milioni di bandi credo sia un altro segnale molto importante. E' il lato economico del piano strategico di ricostruzione che mi ha segnato con tutte le associazioni di categoria. In questo anno abbiamo traguardato anche questo importante obiettivo, quello di condividere con tutti i portatori di interesse, stakeholders, università, anche con la conferenza episcopale marchigiana, quello che è un documento che dà anche le linee di sviluppo. Il terzo passo, il terzo sguardo, l'emergenza, la ricostruzione, una visione strategica per dare l'infravitale al nostro territorio. E restando comunque in tema, il collegio dei geometri di Ascoli Piceno esprime seria preoccupazione sul futuro della ricostruzione post-sisma. Viste le ultime note emanate dal governo sulle mancate conferme del contratto di lavoro di tanti operatori, che fra poco dovranno lasciare l'incarico all'interno degli uffici di ricostruzione, rimane difficile, afferma il presidente Leo Crocetti, comprendere queste strategie organizzative in un momento delicato come quello che stiamo vivendo tutti i giorni nella ricostruzione post-sisma. Proprio ora arriva questa riduzione di personale che in questi anni ha lavorato sodo per mettere a regime tutta la fase progettuale per l'ottenimento dei contributi. Il caldo torrido e soprattutto l'AFA non sembrano dare tregua e ieri ed oggi sono state giornate davvero da bollino rosso diversi malori accusati, soprattutto ad Ancona, dove alcune persone sono state soccorse dal personale sanitario e dai vigili del fuoco. Le temperature almeno parzialmente dovrebbero scendere di alcuni gradi già da domani. Qualche temporale è previsto nella nostra regione da martedì ed anche nel giorno di ferro agosto le condizioni meteo si prevedono piuttosto variabili. E torniamo al caso Pamela perché si preannuncia una vera battaglia legale fra difesa e procura a colpi di perizie sulle cause della morte della giovane romana. Vediamo. E' battaglia come d'altronde ampiamente prevedibile tra la procura di macerata e di legali che difendono il nigeriano Inno Sento Segale accusato dell'omicidio di Pamela Mastro Pietro. Tutto ruoto ovviamente attorno alle cause della morte della giovane romana. Il medico legale consulente della difesa ha infatti depositato una perizia secondo la quale viene contestata la ricostruzione per cui la ragazza sia stata uccisa da due coltellate al fegato. Si sostiene infatti che la giovane potrebbe anche essere stata uccisa da un'overdosa di eroina. La quantità di stupefacente specie si è assunta dopo un periodo di astinenza sarebbe stata sufficiente, secondo questa tesi, a provocare nella diciottenne uno shock mortale. E' anomalo poi, secondo il consulente della difesa, che nel fegato siano state riscontrate lievi infiltrazioni ematiche. Se ad uccidere Pamela fossero davvero state delle coltellate, le infiltrazioni sarebbero state molto più evidenti. Ricordiamo che nell'ultimo interrogatorio in carcero Segale ha continuato a negare di aver ucciso Pamela, ammettendo però di averla fatta a pezzi per disfarsi del cadavere dopo aver riscontrato la morte per overdose nella sua abitazione. Per l'accusa, invece, la giovane sarebbe stata uccisa e successivamente, in modo grossolano, il nigeriano avrebbe tentato di nascondere le tracce di una violenza sessuale consumata sempre all'interno dell'appartamento di Macerata di Via Spalato. Un appuntamento che vi vogliamo segnalare sabato a partire dalle 19.30, apertura straordinaria delle cisterne romane di fermo per l'evento Europe in My Region. Un'occasione unica per scoprire uno dei tesori valorizzati dalla campagna lanciata dalla Commissione Europea per promuovere la conoscenza dei tanti interventi realizzati sui territori con l'apporto comunitario e nelle marche si traduce con una serie di iniziative organizzate dalla Regione. Splendido complesso architettonico di epoca augustea le cisterne romane rappresentano una preziosa testimonianza di arte idraulica a servizio dell'approvvigionamento idrico della città e degli equipaggiamenti navali. Sono previste visite guidate gratuite. Weekend, questo che ci apprestiamo a vivere consacrato per larga parte della popolazione alle vacanze dal tempo libero e nel fine settimana sono attesi oltre 43.000 passeggeri al porto di Ancona. Sentiamo. Circa 43.500 passeggeri attesi al porto di Ancona nel fine settimana il weekend più caldo dell'estate più 8% rispetto all'anno precedente secondo l'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale che stima in oltre 39.500 gli imbarchi e sbarchi dai traghetti a cui si aggiungeranno gli oltre 2.800 croceristi della MSC Sinfonia in arrivo oggi e i circa 1.200 di Marella Celebration nella toccata mensile del 12 agosto. Le due navi da crociera movimenteranno 4.000 persone gli itinerari previsti vanno dalla scoperta di Ancona alla riviera del Connero da Urbino alle grotte di Frasassi da Osimo e Iesi ad Ascoli Piceno Per i traghetti internazionali sono sette le partenze per la Grecia salgono oltre 11.000 i turisti verso la Croazia e a 2.800 quelli per Durazzo in Albania le auto al seguito supereranno le 9.000 unità Ma weekend anche con la grande musica a Macerata si conclude lo Sferisterio Opera Festival e giorni intensissimi a Pesaro per la 39esima edizione del Rossini Opera Festival con da sabato a lunedì Ricciardo Ezzoraide che aprirà la rassegna a Dina ed il Barbiere di Siviglia quest'ultima con regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi che alla tenera età di 88 anni arriva nella città del compositore pesarese nel 150esimo anniversario della morte Pizzi ha annullato tutti i barbieri visti o sentiti per cercare una visione nuova integra senza gag ma con la comicità naturale di una commedia to court da Beaumarchais a Rossini che ha il merito di rendere simpatici i personaggi tutti negativi lo definisco un benefattore dell'umanità per tutta la musica sublime che ha lasciato, ha detto il maestro Sostituzione a tempo determinato del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, Giacomo De Carlini con il tenente Antonio Masciarelli che dirigerà il comando in sede vacante 36 anni, abruzzese della provincia di Chieti negli ultimi 4 anni ha comandato il nucleo operativo e radiomobile di San Benedetto del Tronto Ed apriamo ora la pagina sportiva con la pallavolo femminile il mercato della Lardini chiude con il botto la giapponese Koyomi Tominaga è la nuova alzatrice della formazione filotranese in Serie A1 la 29enne regista di Komai città dell'area urbana di Tokyo 175 cm sarà impegnata con la nazionale nipponica nei campionati del mondo che si terranno dal 29 settembre al 21 ottobre proprio nel paese del Sollevante prima di iniziare a Filottrano la sua prima stagione lontano dal Giappone l'approdo in Italia della palleggiatrice nipponica avviene a 23 anni e mezzo di distanza dall'arrivo nel massimo campionato della prima giocatrice giapponese anche allora nelle Marche esattamente ad Ancona ora di consueto le previsioni del tempo poi altre notizie di sport per te che sei sempre alla ricerca per te che la felicità è sentirsi dire ti aspetto a casa Moplan Arredamenti è per te con i suoi 5.000 m2 di esposizione di cucine living camere arredobagno centro specializzato materassi grandi marchi prezzi speciali interior designer a disposizione e servizi altamente qualificati di falegnameria interna trasporto e montaggio Moplan Arredamenti Castelplanio Ancona ci vediamo a casa ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsioni per sabato 11 agosto consueta instabilità sui rilievi del nostro paese mentre altrove il tempo si manterrà buono ovunque ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it al nord sarà soleggiato ovunque al mattino col passare delle ore si accenderà l'instabilità sui settori alpini specie orientali con locali temporali possibili inoltre sulla Liguria cielo al massimo poco nuvoloso invece altrove al centro splendida giornata di sole su tutti i settori con cielo pressoché sereno salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi appenninici al sud poche novità anche qui sarà in prevalenza soleggiato tuttavia con qualche acquazzone pomeridiano sui settori appenninici e inoltre sulla Sicilia orientale i venti saranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali concludiamo infine con le temperature che risulteranno essere piuttosto calde le minime infatti saranno comprese tra 15 e 26 gradi un po' su tutto il nostro paese per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 34 gradi al centro nord e punte di 37 gradi invece al sud siamo al calcio con Lascoli che comunica l'acquisizione a titolo definitivo dal Bologna del portiere Filippo Peruchini nato a Bergamo nel 1991 Peruchini ha sottoscritto col club bianco-nero un contratto sino al 30 giugno 2020 cresciuto nelle giovanili del Milan l'estremo difensore Lombardo ha vestito le maglie di Como, Varese, Benevento e Lecce squadra quest'ultima nella quale ha militato 4 stagioni collezionando 113 presenze ed un'ultima notizia non riesce alla Happy Car Samb Beach Soccer la conquista della Supercoppa 2018 in finale contro gli eterni rivali del Viareggio arriva per il Rosso-Bru una sconfitta per 5-4 non è stata una partita scintillante visto che la tattica e la tensione hanno prevalso sulla tecnica ora le finali Scudetto sempre a Catania che lo ricordiamo potremo seguire ogni martedì su TVRS Canale 11 a partire dalle 20.50 con questo è tutto per la nostra edizione del telegiornale grazie per averci scelto e buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.